a chi son i lidani che mi hai fatto venire in mente per far risaltare di più la barba diesel bin diesel nell'ultimo film che ha fatto lì last winter last chicken dinner last witch hunter last witch hunter forse non lo so si 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 last witch hunter l'ultimo cacciato per i streght ragga bum bum girl non è in il nap per un pata un po' per e e car e il pico 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 anche io l'uomo con vivo bico vivo 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 veo il pico vipo 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 domani sono in festa io e lunedì sapevo che vipo 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 l'altro sono finite le vacanze vivo adesso adesso stavo guardando con la mia compagna le foto dell'anno scorso della corsica abbiamo andati con lo scooter minchia che spettacolo a corsica una scimmia di andare anche sardegna così aio a mangiarti il formaggio se mi levo gli occhiali se mi levo gli occhiali ti donna testate per testa capito aio capare e tu da parente ma scelto bene con i saseri la saseri la saseri l'upper un chiuso porto mi sta dicendo che sto urlando e io mi ricordo a roma quando ho conosciuto tre ragazze di cagliari che loro per dire sì dicevano ehi a ehi a ehi a minchia ehi è veramente è un master dai c'è sto andiamo lì hello hello i'm dimitri nan 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 hello it's me yo wafo you are not on i'm battle in bambino i'm gonna be the matter in video i'm be non la fine del un bambino con calma un uomo in un uomo in un uomo akaboo girl fai devi cantare un'altra cosa sei tu peppe che ci abbiamo io ne vado in fondo proprio a nord a nord a nord si vengo anche Dani sta a mezzo eh c'è un accanto a te proprio si veniamo anche io beppe no mi si è piantato porco di razza spento gioco da solo crash ma vaffan mi sentite raga sto prendendo appunti con uno c'è una merda mi si è spinto e l'ho coppato bravo e l'ho ucciso bravo la devi fattere con me ma io ti scoppio che poi non è nemmeno entrato a prendersi le armi ci è venuto proprio diretto a uccidermi bella idea di uccidermi minchia zaino per te cc vuoi fottere con noi è l'idea del cazzo eh si cazzo fottere con noi è proprio un'idea del cazzo guarda che bello vivo fermo tronfio sopra il tetto ah sono sopra il tetto si sento rumori fino alla mia sinistra io sono sotto i temi quello che si buttata accanto a me non si è fatto vedere eh quello che è venuto a prendere a pugni a me ah si forse perchè peppe pia ah minchia peppe si forse perchè peppe porca troia da dove mi sparavano da qua vicino eh da qua dove sono io in sta casa figlio di puttana camper di merda madonna pezzo di merda schifo di schasso eh mi ha ammazzato pure a me ma è dentro si al secondo piano moccato come la merda torna all'oppio figlio della merda bastardo ma pensa a te che cazzo di player di merda che ci sono no Grazie. Come ho giocato di merda. Dai, è ammazzato. Come ho giocato di merda. Ci ho messo due ore a prendere la granata. La granita? Quella cosa che se la tieni troppo in mano ti mette incinto. Se dovete prendere la granita, che gusto la prendete, raga? Io la prendo al limone o alla fragola. Dai, babbo, dai. Caffè alla menta. Alla menta, cioè. Ma che schifo! Ma che schifo! Vipo, devi capire che Morabio non capisce un cazzo. Eh, guarda, perché non mi sto accorgendo? Ecco. Eh, è proprio simpatico il Vipo, eh. Eh, stasera. Non mangia le olive. Non gli piace la pasta agli olio e il peperoncino. Cioè, proprio... Come no? No, eh. Mi hai ricordato quando, tipo, hai provato a diffamarmi davanti a Franco. Ma panca a lui, gli piace, ma che schifo di uomo, eh. Si vede che va bene per quella famiglia. Eh, sei un lercio, basta. Eh, io sono un lercio. Io sarò un lercio, ma a te non piace la pasta agli olio e il peperoncino. Ehi, bro! What's up? What's up, man? It's okay, it's okay. What do you do, man? Where do you want to go? Turn up your voice, man. I like this point. A questo piace il mio posto preferito. Come sorrillo? Ah. Ah, zan, se ne ripeto. Ok, it's better. Guarda, di fondo. Non date troppa confidienza. Calma, 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 calma. All right, Godhead. Guarda says le bird. Can I do the bird? Ja, già, già. Oh, la organise! Do you run out of office, ma? Bird. Bird is the word. I like your voice, man. Thank you man, I like yours too. Where did you get yours from? I'm from Italy. Oh yeah? So Italy, the whole country gave you your voice. Con calma, Daniele è troppo un cazzo, eh? I like your boom boom girl. Con calma, e Daniele non lutta una minchia, e porca porca, e va andare. C'ho un fucile. C'ho un mappa. No, la partita ne va. C'ho un fucile. Con calma, a Daniele piace un po' la diarrea. Perchè mi dovrebbe piacere la diarrea? Tu lo dice la cazzo. Non lo so, diccelo tu. Con calma, a tipo viene presto la diarrea. Daniele la mangia. Ma te schifo. Ma te schifo. Ma te schifo. Ma te schifo. Eh, Daniele, se sei un mangia diarrea non è colpa nostra. Se lo dice B per così. Ma al massimo la bevo. Con calma. Oh, che male. Mi bevo un bicchierone di diarrea. Un beperone di diarrea. Eh, sì. Se no, say hello. This is very close. Hey man, my friends say me, I drink diarrea. It's true. Drink what? Yeah. S- Toka house. Do you know? Liquid Sheet. Liquid Sheet. Liquid shit, ok, this is all good. I don't drink, Liquid Sheet. I mean, it gives you the acid protein in your diet. I guess. No, no, stai capito. Penso che si riferisca a qualcosa che... Morirai! And not die. che c'ho di dietro, il bastardo di morabiro volete un due perra raga ma c'è lo voglio io lo voglio la roba qua c'è un stile ma siamo quattro video delle pure duro ehi vipo voglio io il due perra vipo la pulisci di la bocca da niente sono senza casco sono senza casco ragazzi la tua schiena la scena ieri se arrivo se mi trovo il giro mello prendo il tuo parco no no come sei precisa qui c'è una k se volete ragazzi vieni Dani ti mollo casco eh si peri chi è fantastriglioso salvo mica 5 56 in piedi a sb io volentieri sebbene vertical grip il pulsino vertical grip mi fa un favore ah ti do tutto quello che ho oh oh c'è il troppo ho visto il troppo ho visto il troppo qua hai visto il troppo lì si 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 eh valla a pigliare valla a pigliare subito guarda com'è nascosto in mezzo alle pietre mucciato peppe mucciato scusa minchia che bello che bibo sa che li sa i nostri i try to cover you man i try to cover you man i wanna try you i wanna try to cover mamma mia cosa ho trovato posso prendere qualcosa pure io c'è un elmetto 2 che cosa hai preso cos'hai preso beppe x3 he's clean man he's clean come 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 with us che armi hai trovato che armi hai trovato l'auk niente di che oppo oddio niente di che no l'interessa è un dmr non copri guancia dmr copri guancia dmr un po' c'è guancia ma non c'è l'ho ma non mi posso mettere ce l'hai ma non te lo metti nel culo non lo posso mettere qualcuno vuole un mirino grafico beh ho sentito sparare se mi vuole ti vuole ti vuole qua facciamo attenzione cosa facciamo attenzione mi sa che ah la febbre eh hai capito eh metti la copertina dopo che ma date raga eh non Allora Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì scherzo mi servirebbe qualcosa per recuperare la vita piena c'è un altro grip verticale quasi vi serve un caricatore stesso è un caccio tattico se lo trovate poi sono a posto è arrivato 255 da dove? da qui non sono andato per dire non penso che... non sono andato C'è altra gente, c'è altra gente, occhio Ho sentito sparare Da dove sta andando il nostro amico L'ho sparato a te Peppe Da dove? Non lo so Da qua, tra le rocce Non li vedo Sei tu che spari Peppe Sì, uno l'ho colpito Diadro alla roccia Io caccia del cappella uno, glielo ero la roccia Giriamo in posti, coglioni che stanno in casa Arrivava qualcuno Da voi Ho sentito un mezzo dell'antenanza Ho sentito un mezzo dell'antenanza Non li vedo ragazzi Sono qua Se venite dove sono io li vediamo di lato Praticamente Ho messo uno va a pao Ho messo uno va a pao Provo a fargli esplodere il veicolo Provo a fargli esplodere il veicolo Provo a fargli esplodere il veicolo Non li vedo questa roccia ragazzi Un mezzo dietro di noi Vedo un altro da qua Uno si è spostato Sì Stiamoci mora Sono ancora là Comunque stanno salendo la collinetta Sicuro mi ammazza la zona rossa Figuro mi ammazza la zona rossa Un po' di colpi bene bene Che animo rapido La ringrazio Mi ha letto Faccio vedere il coso Che aiutare le persone Novo 嗎 O Quello Che 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 One Per Che C'è gente eh, a destra, a query, andiamole a massacrare, in mezzo a query sono. Eh ma c'è gente pure... da sinistra. Ah ma è ripartito il blu. L'amico spara. Non so a chi ma spara. Sti cavannoni non mi piacciono. A chi sbagliare il mio? Avevo sotto a query. Bastardo. Giù a query? Si qua vicino tra l'altro. Bisogna di... sei coperto? Sto buttato una smock. Ma posso salvarti da straiato? No. Sì. Ah maronna che botta che mi hai trovato. Hai cura il pipo? Si. Si ma da dove sparano? Non lo so. Eh non da cucina eh. Dalla casa allo sotto. La segno sul coso, sulla mappa. Dio beh? Sono morto, aiuto! Ok, io... Sono finiti a merda qua. Non capisco, non capisco. Vabbè vaffanculo. Alla casa allo sopra. Vuittone smoke, Dani qua. Vuittone smoke, Dani qua. No. Vabbè vaffanculo. Non capisco. Non capisco. Non capisco. No capisco. Alla tasca. cappa di mofi troppo per sparare la vista sono a bad position non lo so no tutto sommato no c'è coperto dal blu non penso è terribile nessuno anche perchè infatti potrebbe chiudersi a due fantaggine c'è statene coperto danny che puoi il problema è fammi vedere da dove puoi passare vai tu scendi entri eh qua davanti entri qua senza scalare niente diciamo e devi capire se c'è copertura o no la mappa non si capisce eccolo la l'hai visto mi schianto da qua sopra io mi schianto da qua sopra io guardo la cazzo è questo che spara guarda che ti dico, vado alla guerriglia guarda che qua è tutta la tenda vediamo se stringe e te pareva che stai giocata te siamo 4 baby guardatevi in merda si la cosa bella è che non è una squadra unica arriva il blu curati curati mi sa che sei qua penso se la granata non ci la puffo che diavolo è? al sinistro dai sali da lì dai che schifo daniel porco dena ero la sotto e hai giocato bene porca troia fanculo peccato peccato attenzione perché posso mettere il coso nel qpu ah ce l'ho già messo qui ho fatto due missioni amici io una 2.000 xp e 2.000 xp e signori ricompense cosa mi dai tra un po' posso mettermi il maioncino il maioncino il maioncino ho un coupon bianco voglio il maioncino voglio il maioncino voglio il maioncino amici voglio il maioncino voglio il maioncino ora mi dedicherò al lump devo fare mille danni pt però io non ho sì letto quante armi avete a livello 5 2 o 8 o 3 io troppe c'ho la K a livello 13 l'M416 l'M416 è a livello 12 poi il Car98 è a livello 6 l'M24 è a livello 4 l'Ucili a pompa neanche uno a livello 2 vabbè c'ho il lupo che è praticamente a livello 12 eh Dani vai starta un po' farci perder tempo hai ragione hai ragione hai ragione in prigione lo sappiamo che sei altissimo di livello no di questo non si tratta di livello si tratta di esperienza eh ma l'esperienza in questo gioco non è sinonimo di qualità in questo gioco eh attenzione mia mappa preferì in tua ma lei io sono in palestra qua nel carcere mi faccio fai chiederti con calma ma no ma no non mano mano no no 15 anni un uo certo anche se ma da che non sono mai venuto con la prigione in gioco proprio dove cazzo è stato fraizzo appena l'isolotto mai finuto io mai venuto il tuo posto non ho io figo ci vogliamo andare visto che ci capitiamo sopra va bene dai fatto un pirito io e non abbiamo sentito purtroppo se ti avrei dato un voto da una dc io gli avrei dato sei e mezzo da niente di che io ne ho fatti due che mi meritavo un otto ragazzi ma prima prima hai fatto una doppia scorreggia no una prima una dopo però da ordo perché erano rumorose e puzzose ma guarda che velino questo carcere io non ho guardato se c'è l'altra gente sono sincero non ce n'ero quanto meno non ho visto io ok ok più o meno però c'è uno che è già sceso che ha trovato l'arma e fermo in un angolo nascosto che aspetta madonna che arriverò in casa da dietro mentre sotto al computer li faccio per una bragata di merda che do uno schiaffo tra capo e collo mica che porco 2 2 cazzo cazzo al di favore dovrebbe tutto chiuso cani mi hanno rubato con posto letto grazie attuale foto lei cani sopra bimbo di cani nel letto io l'ho fatto per tanto tempo poi ho cambiato idea si perchè perchè lo fare il letto lo devi cambiare una volta ogni tre giorni col cane nel letto vabbè ma eh vabbè tu sei in città eh sono campagne di non si sporca o almeno si sporcano si possono sporcare di terra non città dipende dipende che tipo di cane hai se perde tanto pelo o meno ah vabbè ok vabbè ma conta che comunque non è il mio cane non c'è sale sul letto per salutarmi non dorme cioè lui dorme questo ragazzi se lo volete eh ok grazie questa cuccioletta qua invece sta poco di più ma non dorme neanche lei proprio sul letto capito 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 puzzo io di mio poi se ci mettiamo di mezzo pure il cane non ne usciamo più ma poi perchè poverina chiara ha avuto pure un problema alla pelle quindi dermatite una specie non era proprio dermatite però quindi ho dovuto ho dovuto fare io alla fine quando dormo mi piace dormire da so cioè avere spazio quando dormo ciò così ciò è stato ma anche anche peppe io ho un uzi tu la vuoi no 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 c'ho scarlete cose vuole e se capese eh madonna non devi concentrarti sull'uzzi eh sul lump è unico stronzo che ne ha trovato una messia eh sti ragazzi vando futuri missioni ma come prima hai detto io mi concentro eh vabbè ma vando futuri missioni ostanzialmente ah ah mia vallò là ah si buttato da tutt'altra parte sapete cos'è questo ahhh no eh quando trovi sei per ahhh ahhh brifillino stardo brifillino stardo ma solo che non ha senso dei fucile che non hanno senso salvo un fucile da cerco pieno serio dallo a me il 2x il 6x sicuramente dai quando vuoi guarda lo saprò usare con destrezza eh credo eh ma per le fesse delle scuole di ottenermi ecco devo usarsi con destra CS però contro di te ahah ah ah ahcom ultimamente chi ha idea di ammazzare un compagno di squadra fa la fine del pollo e viene sparato per primo io sono qua dentro da mezz'ora non sto trovando un cazzo dove siamo? io te lo faccio trovare io i 10 centimetri non può farvi una confidente ma non state contro zitto di arnea attenzione quel capannone con scritto 2 davanti comunque da un'altra parte raga non lo so se deve due e la vista fate i discorsi le cose si più che altro non sono soddisfatto del luto caccio perché non c'è nessuna questa prigione c'è no in realtà gli servirebbe un'altra arma un'arma da c non sarei a posto non un'arma da cretino eh da cecchino da verpino? no cecchino cecchino? esatto cecchino pino la cremeria g gg vaffanculo te la cremeria ma picchia te la culo sto sto a bene niente iniziamo a pensare di dare a v voi già lo state facendo siete belli conditi di roba vabbè io sono con un mirino laser ho detto tutto niente di che vabbè un mirino io ce l'ho da dart poi un 3x buono meglio il 3x che un 3x si per un ero in omani anni 90 3x erano il top è la colazione del campione esatto ma non c'è una macchina una barca cazzo c'è un bugy lungo la strada eeeh ehi bella vieni che ti carico su vieni cazze vieni ex vieni 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 senza vieni c'è un altro qui allora non lo ripito perché mi potrebbe rimanere bene il trapper mi potrebbe rimanere bene tu tu che c'hai diverso almeno tu nel universo non lo prendi vero? no prendetelo tu Bibo se lo vuoi si? mica lo voglio si cazzo eh scherzando via a tiro i colpi me li giulo però chi io blu Bibo Bibo dobbiamo prendere di nuovo arrivo aspetta un secondo Dani aspetta sto arrivando sto arrivando solo esci da lì 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 ciò fai? ci sto provando vai vai esce a sinistra bravo dobbiamo prendere il ponte eh sì torna indietro porca loca tranqui tranqui va bene eh Peppe a piedi sta facendo meglio di noi in macchina eh ho detto tutto eh ma anche il bebbino è macchina adesso eh 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 fino a 9-12-12 ok la prima a sinistra Beppe prendila direi mhm e anche noi adesso puoi andare su ti conviene andare alla prima a sinistra anche qua forse mhm ma la strada c'è la montagna però devo usare eh sì ma da ciò ma c'era ci dobbiamo entrare per forza no mi ha illuso quando vuoi fare a cambio che guido io ti curi te che le fai lì da Beppe scendiamo qua andiamo eh ma la zona di nuovo parecchio distante eh due minuti sì io quasi prenderei un basso alluttato colla sotto lo vedo oh ma non l'ho becco raga scendete eh non so voi ma io non è che c'ho tanta vita e siamo ancora fuori eh dove era il tizio distante o vicino peh? vicino più o meno in questa casa più o meno in questa casa era in questa abitazione qua davanti? sì eh non so dove si è andato sinceramente hai ragione in prigione quindici secondi c'è una macchina eh dai apriamo ciò c'è un cristiano è uno morto cazzo mi hanno sparato sono morto da quella casetta che stavamo guardando prima cazzo è il merda nel blu sicuro vai dai che ci regiriamo dai dai che è tutto a posto perfetto vaffanculo vai ti ho cane bastardo maledetto vabbè vabbè c'è sentito bohelyuk questa è la città di bohelyuk la città non dorme mai bohelyuk attenzione i fischioni da un botto che non lancia un razzo qui va ah sì ok che è sono Grazie a tutti. C'è un carrettino lì, ma non vi conviene prendere. Non vi conviene prendere. Non vi evo. Ne ha bevande energetiche. dani sui morto 1 si chiude qua da noia io in compenso ne ho bevande e rimolla ancora usato a te molo qua di guvande è un po d'acqua 3 per hai mirini tu? si ho un 6 per e basta un 2 per 3 ce l'hai? si 3 per e 4 per c'ho ah ok basta un secondo questo è un po d'acqua che cazzo è? cosa? sparano? si non ho saltato di la vengono io da dove spara l'hai visto? si in un palazzo a casa di cristo guarda tu non lo becco dove sei il bastardo qua? dove sei? mamma mia l'ha preso l'hai preso? l'ho preso la casa di cristo io ho visto un po' di rosso schizzare che piano era? era quello con la base azzurra? si base azzurra? si ultimo piano però ora qualcun altro mi spara non so da dove penso da qualche altra parte non so se da dove siamo venuti noi no? mi sparava da casa di cristo sto mertone ma dove è la zona? minchia venga ne vedo uno qua in cima struttura quelle aperte dice me minchia ok ok eccolo là dobbiamo andare eh si guarda che mi hanno colpito sterti pezzi di merda merda che è anche bella distante la zona no vabbè non tiro porca troia che è male non ce la faccio sono morto ti hanno sparato? no sono morto da blu perché ha ricominciato a partire e fa un male della madonna penso no non è ricominciato ma fa un male della madonna l'ho fatto beh io ci provo si fa bellissimo già che male che fa oh nel palazzo dentro il palazzo l'hai visto? giustamente ho capito minchia che bastardata con la mk l'ultra lì come cazzo si chiama l'm40 cazzo è mutant mi ha piaciuto una sigaretta stertata quando volete mi ha piaciuto una sigaretta stertata mi ha piaciuto una sigaretta stertata grazie a tutti 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 così io stavo lutando quello che è luto lo molli tu vado io e mi ammazza eh perchè sei stato sfigato cioè è stato incredibile ma andiamo sono arrivato io tempo di premere tap che mi hanno sparato pala quello quello che tu qualo 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 non lo ricordate quello quello qualo la parola di quello parola di qualo solo noi credo è tutto nostro è la magnolia sai perchè è così perchè il sindaco ha le conoscenze giù che se no è un palo il nostro uno una palestra non sei per un sks ci si ho trovo uno zaino forse eccolo qua eccolo qua è Grazie. Grazie. Do you find anything? Che cazzo vuole che sto? C'ho trovato... C'ho trovato un po' roba. Penso un po' le sedere che sto. Ma è lui che spara buffo? Beh... C'è un po' la risposta. Allora dai un sintale. Ah! Ho trovato SKS. Ho bisogno... Scope. Ok, vai, vai in the extra, I'll tell. Cazzo ha detto? Se lo trova te lo dice. Caraca, cazzo hai, non capisco un cazzo. Grazie, man. Ti ha anche rato il vetro? Sì. Sì. Ok. Sì. Sì. sopra... Cala... Te... C'è altre case, tristolo, top di quello... Scorso... Alla madonna, vivo trova l'SLR, attenzione. Eh, faccio l'accoppiata... Accoppiata che scoppia. Ho detto un SKS? Mmm... Lo prendere volentiale. Eh, sopra il tetto qui dove sono... Ho messo il segno... Se ti piace la frutta... Mangiatela tutta. Sì. Davide. Eh... Perda merda 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 aaa! Sssssss. Ssss, ssss, ahhhh. Sono un bifo sto cieco, eh. Che cazzo trova l'interessante. Niente, non esegare con l'alcol... Posso... dirmi che anche io non ci ho disfatto? Eh... Ho un hump. un fucile a carne mozza è una madonna la merda io l'ho fatto un SKS sul tetto dove ho segnato ma l'SKS let's go to the start cazzo sta male come cazzo si sale su sto tetto bibo? eh di attraverso tutto ovest c'è il strato c'è l'entrata da rampi le scatole fuori boh non ci sto riuscendo a salire io cazzo è un'altra car qui possiamo prenderla GAMIEL mi fa scavalcare tipo che cazzo ne so bibo non riesco a salirci come cazzo si sale eh devi trovare il lato giusto ai lati ci sali semplicemente Dani devo venire a farti scalet devo venire a farti spalletta non ho capito come cazzo si sale su sto tetto non tenere per moda avanti premi solo spazio cioè dopo che fai avanti spazio molla avanti ok ce l'ho fatta tanto addio beh come è possibile che non riuscivi a seguire qua Dani beh via via eh ma non ci sono colpi eh ho capito che cazzo vogliamo eh ho capito ma almeno no cazzo eeeh tra dieci colpi giusto per dire sparo to la metà eeeh così non cazzo dai muo la macchina sto per dire sparo si è curati che vivo non ti lascia coltari manco non ti non ti volessi bene ebbene quello per il tuo bene punto per quel bene il tuo bene e ci senti tutto in pala non c'era un cazzo ma spero che questo non ci sia una pietra dani spero che non mi ammazza eccolo che mi ha ammazzato cosa dicevi ci sai non so se hai capito è trovato un carro e lo prendo valentieri è stato un po' Questa è una bomba che sto querendo nunca E basta E basta E basta E basta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. diciamo che anche a me sarebbero bene delle bende adesso grazie danni no antidolorifico solo una bevanda ciò se vuoi riprendi grazie qua è il nostro che spara beh là sopra lo vedete là sopra nella collina no a 10 si ok adesso non c'è più i corpi per l'SLRB sta sparata del cazzo giubbottino ho trovato colpi 7 62 0 per 4 ho trovato ragazzi se qualcuno lo vuole io 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 caricatore stasso dov'è per quattro grazie 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 sì Sì. Ah, là c'è il drop. Non so se sono andati al drop, penso di sì. Mi sparano dalla montagna. Da quelle montagne? Da quelle di prima. No, 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 da dietro. Da qua, l'ho fatto scappare, ho morto, tira tutto. Mazzato, Bibo? L'ha mazzato il nostro compagno, io gli ho dato due colpi e poi... Qua c'è il giubbotto, beh, se vuoi. L'ho preso, l'ho preso. Anche a me serve. E mi servirebbero 7,62 anche al tipo, ora li chiedo. 7,62 ne ho 30 io. Tieni, Bibo, 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 Bibo. Giubbotto in alto? No? No, no, era quello di Beppe. Ok, basta. Grazie da... E vedi, tu gli dai a me i colpi, io li do a te, siamo pari, vedi, ci vogliamo bene. Sì, tu lo dati anche meno, ci sono 35. Vabbè, ma a questo punto della partita... Eh, attenzione, il nostro compagno spara, ha sparava verso nord, est. Nord, sud, ovest, est. Nord, ovest, est. Oh, 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 oh. Nananananana. Non so da dove cazzo stai sparando, dimmi dove sono. Hanno ucciso l'uomo a bagno, chi sia stato ucciso? Forse il bagnino stagno, chi cazzo farà? Ok, raga, eh. Provato. Calcio delle mie quattro vi serve? Beppe, ce l'ho già, no? Ce l'ho, ok, ce l'ho, ce l'ho. Guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate il dialogo. go balcony, there's a pain killer right side donk, 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 lalalalala ea, che che sparava? ver si, pulu don't, don't shoot der, it's too far oh ragazzo i don't know non rastopartito, avessol puntino vedo la sopra vedo gente la vedo gente no è duro a casa di cristo sono sono tu maccio lontani di secondo il riparto il blu dobbiamo andare sparta verso di loro si 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 marco e' tutto libero qua non c'è neanche una copertura a pagare che cazzo è o ce l'ha troppo da noi non ci assicuri sono andando lecce il progetto e arco rosso patate copiamolo d'acqua dal dalla pietra ok 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 questo gioco mannale al demonio Andiamo alla pietra prossima. Dove cazzo sparano? Dove li vede? Dove? Dove? A325 dietro al complesso la di case. A325 dietro la casa principale al centro. Porca troia che botta. Da dove è arrivata? Eh, non ti saprei dire. Penso da nord-est. Quanti secondi a riparte. Trovo ad andare avanti. Davanti a noi, beh. Venite da me ragazzi, venite da me di qua. E rimanete coperti in questa stanza. Allora non mi spara nessuno. A325 dietro. E' un po' di qua. 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 Cosa cazzo com' di qua. Dovevo curare. Sono morto. guarda che male che fa qualcuno sulla collina perciò visto perché c'è morto per ammazzare a quello è sempre in cima alla collina il figlio della merda lì beppe è lì dove guarda d'ora qua sopra no? sì se l'ho visto picchia che dolore sparano dall'altra parte secondo me non ho più cure eh va a f***o dall'astronato disparano eh sì sono morto lungo il blu bibo lungo il blu dove guardavi poco fa si si lo sento più a destra più a destra più a destra più a meno dove ci sono i nostri cadaveri non avevo pure non avevo niente solo colpi non mi piace sta situazione col bastardo va sopra dai occhio sopra bibo salvano dei colpi eh visti ok da qua ti vedono quelli sopra bibo hai visto c'è una destra buono c'è tutto l'amico là a sinistra nooo cosa il cazzo ti ha colpito? cosa fa? guardiamo la death cam eh ho sparato troppi colpi a quello là ho potuto girarmi subito a sparare magari anche alle albi eh uno col car no a questi non lo tre minchia proprio comodo comodo tipo c'è la delle cose il fucile è pochissimo il mitragliatore quello grosso quello di distruggi macchine si oltala no 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 cosa dici patch facciamo mezz'oretta di borderlands devo fare mezz'oretta di borderlands no che ore sono le undici e vento ma io voglio fare un'altra pub già sanoc però dai attenzione vi voglio farlo dire ragazzi ah io ho fatto una missione ora mi fai vedere io c'ho solo una missione da fare però in solo mannaggia faccio domani rianima quattro compagni di squadra su st metti il farocco d'arri sai che a me piace sano sì comunque spero che facciano più presto. come la vorreste come vorrei una mappa molto urbano sempre piccola però come sono non dispersiva ho detto io vorrei una città sana piccola ma una città sana solo solo tipo come se giochi nella realtà che cazzo ne sono ammanata andando a new york che non puoi entrare in tutte le case tipo con i grattacieli va bravo si però sai come l'agga a merce come l'agga come cazzo va a merda no però tipo come dice Beppe non tutti i palazzi tu puoi entrerci come per esempio ci sono alcuni palazzi a coso che non puoi entrarci nell'ultima mappa che hanno messo non mi ricordo il nome adesso a big andy ci sono alcuni palazzi chiusi totalmente sì io con questo mi sto pigliando appogno in wireless senza toccarti sì da un ombrellone all'altro ma io direi di andare a booty camp e di fare una partita di quelle proprio sfumeggianti sì però allora andiamo all'enterprise andiamo all'enterprise e remingtoni hello remingtoni logo di bravo 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 show rip io dormito un pò stamattina Però devi contare che Per una settimana veramente dormito di merda La cagnetta Un po' si sta ambientando E' stata veramente dura I primi due giorni un incubo Ogni due secondi Poverina c'aveva la tosse e era sveglia Si svegliava e mordeva Qualsiasi cosa che gli capitava Quindi bisognava stare attenti Perché rischiava di rovinare la roba Da che non mi prende le munizioni M'ha ammazzato Dai Armintone ma che cazzo giochi da solo Dai sono laggato E' uno di l'altro Ma Da dove cazzo mi è arrivato sto colpo Dal piano di sopra Occhio beh che ha fatto il giro Ficcati qua dentro Aspettali che entri dentro Vediamo Una granata Ma che schifo Ma che schifo Che schifo Mi sento colpi ovunque non capisco Che schifo Ma che cazzo fa Vosti se buttate in un altro posto Ma donna come godo T'arriva Chiudigli la porta Chiudigli la porta Ok ora apri gli spari in faccia Bene Perchè è sparata Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. e ciò che può è difficile però Loro. Qua sì, abbiamo ancora delle armi di merda, eh? Sì. Tanto ho giocato con Melino a Porter Dance. Sì? Ma con cosa ho giocato lui? Con il suo pc, con il suo portatile normale. Ah. Partita scalente, mi dice. Da te. Perché? Oh. Ah, ho sbagliato. Non ho trovato un personaggio sbagliato, mi sa. Eh sì. Personaggio livello 3. Ci sono. Ok. Ah, dove siamo usciti l'altra volta, eh? Dobbiamo prendere un veicolo e farci le domicilie. Fuoco di copertura! Ma no, ma che sentito? Mi svanisco ogni volta che va guidata col mouse. La corrente! Grazie per aver abbocato e aver rubato quel nucleo energetico. E' stato difficile concentrarsi sul caricare la chiave della Kripta con gli amici di Roland che attaccavano le miniere di Kripta. Happy Pig Motel! Dove cazzo devo andare? Eh, dietro. La sopra. Oh. C'ha venito a rock così? La qua. Ok. Potrai riunirsi ai tuoi amici dopo aver oltrepassato il Fregge. Guarda quanta cazzo di gente. C'è che cazzo che spara quello là sopra. Ehm. Ehm. Le ricordate? Ehm. Le ricordate? Le ricordate. Le ricordate? Di ricordate. Con svegna. Cosa è sta roba? Tolli Come fai a prenderli? Lascia che ti aiuti Occhio che mina fuoco ora Penso Due cose non li vedo belli E infatti Perfetto Quando vuoi soldato? Oh scusa, puoi provarci? Noi, stai bravo Stai bravo stai bravo caro cos'è questo? mod gun zucker energia massima velocità di carica 616 lo scudo not too bad e disattivarlo faceva tutto parte del piano di gioco no Sì, senti che botte che dalla mia torrenta PORCA TROYA CHE MADE che cazzo che sta? Ah, i volatili di me Che critico che gli ho spaccato in faccia, mamma mia Cosa cazzo, gli uccelli, che cazzo Ma che è male Pure gli uccelli li mettono Eh, muore, uccello di merda Merda Tutto mio, tutto mio Cos'è un lancio, ragazzi Vai, Piet Oh, il meglio del mio Oh, il meglio del mio Ah, la c'è un mostricciattolo grosso Si Che è grosso, quello fa là Si, devi sparare ai cosi, alle gambe, quei cosi uccelli E l'elettricità di dio Sì Danni empici Si Oh, 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 oh Andare via Questo mi scopre di bo Che vienessi te Senza munizioni Io Eh, dobbiamo prendere il copà, vieni per Eh, sono a terra Ce l'hai così? Non ci hai messo? Eh, a terra sono Oh, ecco Bene Minchia, non c' ho mai Da prendere piu' di munizione Eh di uccelli di Dio Porca di quella E anterra pure io Ok ci sono un uccello Guarda la sono morto di nuovo Un colpo un colpo ok A me si riesce a ammazzare stu uccelli Guarda se muore sta merda di mostro Ah ma vaffanculo Ho preso una cosa Questo Accattiamo tutto quest'oro Devo andare dalla parte posta Ah ma da qua da qua Perché? Questo è giusto Qui c'è qua dentro eh? Oh mia Hai capito che senza di nuovo Pandora Lo capisco Ma se vuoi impedire oggetti di controllare il guerriero ti servirà il mio aiuto Perché io so dove si trova Capito? Starda Migliore prestazione del... Oh sì Se hai i soldi Solderò la tua vita adorata Correzione Serve una licenza medica quando c'è dovrebbe tenerti dentro gli intestini Ci si becca Un piacere come sempre Grazie per i soldi Qualcuno è occupato? Un po' non amico Niente Rimborsi Io e te Adesso Ah smettila cretino E' additto Attenzione Cerchiamo i nostri amici Ah carina qua la Eh Oh Sanctuary Ah E' tornata Sanctuary Ti ricordi che si era di pop Si si Ora che Sanctuary è ricomparsa Puoi usare qualsiasi stazione spostamento rapido per tornare dai Crimson Rider Segnalo la più vicina sul tuo dispositivo Echo Guarda Cosa Questi casi sono tipo invisibili Sì Che appena vedi il bussati ci ficchi eh Sì 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 Muranata Chia che critico voglio facciar Dio Eh cosa c'è tutta ci sono i robottoni No, non lo ci sono io lo fai? no a posto ci penso io a te ok oh l'esplosione bastardata beh quelli la forse puoi ammazzare vai vai best io tu puoi dire ci ho fatto resta con me sono tornato prendevo ho preso a missile ma direi di andarci nel prima possibile bene scendiamo si anche perchè qua continuano a spawnare a barbo c'è sentinella fuori non 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 sono cazzo Secondo Abilità da mettere Mi sa Passato Ok Ok Devo assolutamente cambiare Starman che fa schifo il cazzo Eh robotone a bomba Oh Energia qui Ah 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 Caricatori Ah 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 Devo riprendere Ok, ci sarà un po' vento Vuoi provarci? Oh, che cazzo è sto coso Sganciatore Minca, ha sganciato una mitraglietta Arai nell'occhio, vivo BOLOBOOM Ma, che succede? Radio faro, si vede là No Prevedo un bordello qua Che cazzo è sto coso? Ce l'ha in mano voi Porco No, ora eh, sono di lanciare razzi Minchia, pure il robot Tucidano più Sì Ok 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 Quanti di razzi Più Merdona oh ma che botta arrivo questo lo distrutto facile ho l'arma corrosiva devo andare da lì qua io e te adesso aggiornamento tab mi scatta gettoni che arma ho preso non è guardato questo tizio mi attacca con un cucchiaio un dannato cucchiaio e io me la rido quindi lo uso per cavargli gli occhi allora c'ho una reliqua da dare a te una reliqua si perchè danno corpo a corpo aiuto io lascio questo qua aumenta la probabilità del bottino raro ok ok oh spostiamo la macchina non c'è bisogno ma non c'è bisogno ma non c'è bisogno che volano, che fanno un male questa cazzo di torretta qua sopra eh no, mi sa che ci conviene prendere la macchina vai che peppe, vai fuori porca no, dove? qua no che cazzo palle per dietro vado per andare qua vaffanculo eh ciao che cazzo è successo? oh 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 si mi sento un po' bugato eh, giusto un pochino dai che ora guido io pe sto un pochino buggato mali mortacci mia vivo c'è un piccolo problema qua non ne usciremo oh buona idea per ecco cosa c'è da fare eh eh, io sono sotto la mappa sono morto non esposto manco le granate qua sei fatta? come hai fatto a morire? eh, sono morto sono, mi sono buggato in mezzo al al coso beh, ma micchia che tanata dai non so se è sparando di una macchina sei tornato al menu principale vabbè, che facciamo? chiudiamo noh, per ok è tornato? 30 secondi rientro collisione a lost attendi adesso beh, finiamo la cosa se no possiamo anche staccare stacchiamo stacchiamo, stacchiamo dai stacco esci si